buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo dei nuovi percorsi abilitanti ai sensi del dpcm 60 cfu i già in gazzetta ufficiale del 25 settembre 2023 prima domanda essendo una docente di ruolo della scuola primaria con titolo di accesso diploma magistrale conseguito entro il 2001 2002 ma possedendo anche la laurea vecchio ordinamento di filosofia potrò abilitarmi in a 0 19 con i nuovi percorsi abilitanti certamente si potrai conseguire l'abilitazione a 0 19 perché già in possesso di un'altra abilitazione anche se di altro ruolo e anche se con un diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001 2002 potrai seguire percorsi abilitanti con modalità totalmente a distanza e questi nuovi percorsi abilitanti saranno di 30 cfu e quindi potrai conseguire l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso a 0 19 storia e filosofia domanda numero 2 ho una laurea magistrale in informatica presa nel 2023 ma non ho non posseggo i famosi 24 cfu come potrò accedere ad almeno uno dei prossimi concorsi del pnrr la prima cosa da fare in una situazione del genere è quella di acquisire entro il 28 febbraio 2024 così dice il dpcm del 25 settembre 2023 i 30 cfu previsti appunto dall'apposito dpcm con questi 30 cfu e la suddetta laurea quella in informatica laurea magistrale informatica sia così l'accesso al concorso a cattedra il cui bando è previsto per febbraio o marzo 2024 presumibilmente tali requisiti potranno far accedere la docente già nelle prossime gps qualora non fosse già inserita domanda numero 3 ma quando inizieranno i prossimi corsi da 30 e 60 cfu per acquisire il titolo di accesso ai concorsi e il titolo di abilitazione all'insegnamento presumibilmente inizieranno molto presto visto che la scadenza dei 30 cfu è indicata nel dpcm entro il 28 febbraio 2024 dunque la conclusione entro questo limite temporale dunque i tempi sono veramente strettissimi è utile ricordare che la scadenza dei 60 cfu per acquisire l'abilitazione all'insegnamento è invece fissata entro il 31 maggio 2024 speriamo che queste risposte a queste domande siano utili a tutti i nostri telespettatori seguiteci ancora nella nostra rubrica domanda risponde perché tratteremo tante tematiche di attualità e di normativa proprio attraverso questo canale arrivederci e alla prossima puntata grazie a tutti